Si chiama Milano che spettacolo ed è la campagna di comunicazione ideata dal Comune per stimolare il pubblico a tornare al teatro, al cinema e ai concerti, un'iniziativa che prevede anche degli incentivi economici, ossia dei voucher da 5 o 15 euro, che gli spettatori potranno usare come sconto ai biglietti d'ingresso. Con le capienze delle sale tornate al 100% a partire dallo scorso 11 ottobre, adesso le istituzioni cercano di incoraggiare i cittadini a riempire nuovamente cinema e teatri che nell'ultimo anno e mezzo sono stati tra i primi settori a chiudere e tra gli ultimi a riaprire. In totale i voucher saranno 12.000 per un valore di circa 90.000 euro. L'iniziativa di Palazzo Marino, strutturata in collaborazione con l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, prenderà il via domenica 24 ottobre per concludersi quindi il 14 novembre prossimo, ma i voucher saranno disponibili sul sito www.milanochespettacolo.it già a partire da mercoledì 20 ottobre. Una volta in possesso del voucher basterà recarsi alle casse delle sale di spettacolo aderenti e presentare il voucher per ottenere lo sconto sul biglietto. Unico vincolo, la limitazione massima di un voucher per ogni cittadino.